Ciao ragazzi da Vittorio, torniamo un po' a parlare di Lazio-Genoa e vorrei soffermarmi su un paio di punti secondo me importanti che riguardano Lazio-Genoa ma in generale tutto questo campionato. Ciao a tutti da Vittorio, la Lazio è tornata a vincere una vittoria fondamentale contro Genoa, bisognava dare una stersata, bisognava dare un segnale importante. Anzi ha vinto 3-1, purtroppo ha concesso ancora una volta un gol e questo è un problema, ma ha fornito soprattutto nel secondo tempo una buona prova. Ecco, è questo uno dei problemi su cui dobbiamo riflettere. Primo tempo della Lazio, va detto bruttino, una Lazio lenta che ha sbagliato tanti tanti passaggi a centrocampo e questo ha facilitato decisamente il lavoro del Genoa in fase difensiva. Poi è arrivata la giocata di Felipe Anderson, bravissimo e furbo a leggere l'intuzione di Suraro di passare il pallone indietro, poi con la sua qualità in velocità ha bruciato il difensore Genoa, ha entrato in aria e poi ha servito a Pedro uno degli assist migliori della stagione, più facile per buttarla dentro. La partita è cambiata. Nella ripresa la Lazio ha alzato il tono, l'intensità di gioco e soprattutto ha sbagliato molto di meno e questo è un aspetto che va sottolineato. Miliko Isavic nel primo tempo ha fatto poco e male. Felipe Anderson, come spesso, si è acceso a intermittenza. Zaccagni e Pedro hanno fatto loro, secondo me sono due esterni da seguire con grande attenzione. Basic, che è un giocatore che a me piace, ha sbagliato qualcosa di troppo. La Lazio a centrocampo sbaglia troppi passaggi. Ed è strano perché anche nel primo tempo c'era la qualità, perché non si può dire che Miliko Isavic è scarso, non si può dire che Basic sia scarso. Cataldi non è sicuramente Giorginio, ma ha dei buoni piedi, dei discreti piedi. Quindi, nonostante questo, la Lazio ha sbagliato una serie di passaggi incredibili. Nel secondo tempo qualcosa è cambiato. Miliko Isavic è salito di livello, ha sbagliato molto meno. È uscito Basic che, ripeto, è un giocatore di qualità, anche se stava sbagliando qualcosina lui. E' entrato Luiz Alberto e Luiz Alberto è entrato bene bene. Luiz Alberto, molti citano l'assist per Zaccagni, però non è solo quello. Non è solo quello, la gente pensa che è quello, è l'episodio che ha chiuso la partita. Luiz Alberto ha fatto tante giocate buone, tanti passaggi giussi, senza sbagliare. E questo ha messo in difficoltà il Genoa, perché se tu fai girare la palla, senza sbagliare, costringi la squadra in fase difensiva a correre molto spesso a vuoto e crei i varchi. Se tu invece fai il passaggio diagonale e lo sbagli, quello prende la palla e ti trovi te sbilanciato. Che è una delle caratteristiche della stagione della Lazio. Quanti gol la Lazio ha preso con un passaggio a centrocampo sbagliato, contropiede della squadra avversaria ai gol. Tantissimi ragazzi, tantissimi. Ecco, non si può dire che alla Lazio manchi qualità, perché non puoi dire che Luiz Alberto non ha qualità. Non puoi dire che Milinko Isavic non ha qualità. Non puoi dire che Felipe Anderson non ha qualità. Il problema è che quest'anno, soprattutto, questi sono giocatori che si accendono e si spengono. Il primo tempo di Milinko Isavic contro Genoa è brutto, il secondo tempo è ottimo. Luiz Alberto è entrato e ha fatto la differenza, però in quante altre partite Luiz Alberto ha giochicchiato, ha perso pal, troppi palloni, eccetera, tante. La Lazio del secondo tempo è stata una buona Lazio. Qualcuno dirà, eh, ma contro Genoa. No, perché secondo me questa Lazio avrebbe fatto male a tutte le squadre, perché se Luiz Alberto non sbaglia un passaggio, davanti ci puoi mettere il Milan, l'Inter, eccetera. È difficile, è difficile rubargli palla. In più, se Felipe Anderson si accende, come si è acceso contro Genoa, la Lazio è pericolosa, anche perché Pedro è di un'intelligenza tattica. Il primo gol della Lazio, Pedro legge l'azione in intenzione di Felipe Anderson e si mette in aria nella posizione giusta. Nella posizione giusta. Non lo fa solo quella volta. Anche quando va a segnare Zaccagni, andate a vedere chi era in aria di rigore pronto. Perché Zaccagni aveva due opzioni. Dribblare e segnare, oppure passarla facile a Pedro, che stava là pronto a fare la doppietta a porta vuota. Questo è Pedro. Giocatore di un'intelligenza incredibile, che si fa sempre trovare nel posto giusto, nel momento giusto. Lo ha fatto nel derby, lo ha fatto ieri in Genoa. È un giocatore fantastico. A questo aggiungiamo Mattia Zaccagni, che io ripeto, adattissimo a 4-3. Un giocatore che può diventare devastante, lo stiamo vedendo adesso che è in forma. Se Felipe Anderson si accende, ragazzi, la qualità di questa squadra è incredibile. Aggiungiamoci Luisa Alberto, aggiungiamoci Milinko Isavic. La qualità di questa squadra è incredibile. Eppure, eppure, ci sono partite come quella contro Sassuolo, come quella contro Bologna, come quella contro Verona, dove la qualità di questa squadra è letteralmente sparita. Non riuscirono a fare due passaggi in croce. Non si può dire che Luisa Alberto non è in grado di fare due passaggi in croce. Non si può dire che Milinko Isavic non è in grado di fare due passaggi in croce. Semplicemente, questi giocatori non hanno la continuità necessaria per giocare a certi livelli. Se la Lazio, come fatto al secondo tempo Genoa, giocherà così, ci divertiremo. Se la Lazio giocherà come il primo tempo di Genoa, allora ragazzi, sarà una sofferenza, perché è difficile vincere se non fai due passaggi di fila. E ripeto, non è un problema di giocatori, perché non si può dire che Milinko Isavic è scarso. È un problema di concentrazione, di testa, di qualcosa che non funziona a livello mentale. Il nuovo schema dei Sarri? Sì, sicuramente può dare dei problemi, ma non può essere questo. Per cui non si può dire che la Lazio non ha qualità. Il problema è che non è che se io ho scritto Milinko Isavic dietro, per forza faccio una partita fantastica. Milinko Isavic si è acceso nella ripresa e la Lazio è stata devastante. Anche grazie a un Luiz Alberto fantastico. Abbiamo visto. Contro Genoa nel secondo tempo, la Lazio è stata travolgente, perché Zaccagni e Pedro hanno continuato a far bene. Felipe Anderson dopo il gol si è acceso. Luiz Alberto, Milinko Isavic, anche Cataldi ha fatto bene. E la Lazio può essere veramente devastante. Due parole anche su Felipe Anderson. Il gol gli ha dato fiducia e si è acceso. E quando si accende Felipe Anderson sono dolori, soprattutto per gli avversari. Speriamo che Felipe Anderson sia tornato quello di inizio campionato. La qualità non si discute. Quello che si discute, purtroppo, è la testa. Felipe Anderson riesce quasi sempre a fare la scelta sbagliata. Contro Genoa, invece, ha fatto le scelte giuste. Può giocare falso nuove? Sì, perché ha un talento che Felipe Anderson può giocare ovunque. Però, secondo me, ritrovare la qualità di Felipe Anderson è sicuramente una cosa importantissima per questa squadra. Anche perché, finalmente, se Felipe Anderson inizia a giocare da Felipe Anderson, e Sarri ha tante alternative perché Zaccagni adesso è cresciuto e sta giocando benissimo. Pedro è uno che fai fatica a togliere, Pedro. Perché sì, magari non c'ha più la progressione di una volta, però è sempre a posto giusto nel momento giusto. E ti decide le partite, ti decide le partite. E adesso voglio che, mi auguro che Luisa Alberto entri in forma e possa partire dall'inizio. Per avere opzioni anche là, perché c'è Basic, che ripeto, giocatore forte. Contro Genoa ha giocato benissimo. Però c'è Basic, Milinko e Savic, Luisa Alberto e anche a centrocampo inizia ad avere tante alternative. Tante alternative di qualità che ti consentono, ti dovrebbero consentire, di fare meglio, di fare punti. Anche contro le squadre più complicate. In chiusura, l'unica nota negativa, secondo me, è il gol. Entra Patrick, la Lazio prende il gol. Non è una coincidenza, però la Lazio sta cassando troppi gol. Nel gol, se vedete, io do la colpa a Patrick. Molti mi hanno scritto, non è vero, è colpa di Leiva. Ragazzi, tutti e due difensori centrali della Lazio, anziché alzarsi, arretrano e danno lo spazio al giocatore del Genoa da dentro l'area di tirare. Dentro area, limite dell'area, eccetera. Nel calcio di Sarri, i due difensori centrali non devono andare indietro. Devono andare avanti a coprire lo spazio, a prendere il marcatore. In quel caso, quello è di Patrick. Patrick fa un passo indietro, anzi due. E quello ha tutto il tempo di stoppare, tirare e segnare. Lo fa anche Acerbi, però il suo uomo non prende la palla e quindi la colpa è di Patrick. Dispiace perché sarebbe stato importante dal punto di vista del morale un clean sheet. Peccato. Peccato anche perché Radu è entrato molto bene. Mi è piaciuto molto Radu. Isai non mi è piaciuto molto. Però è stata una prova, direi, un secondo tempo molto promettente. È vero, è il Genoa, eccetera. Però la Lazio ha dimostrato di aver qualità. E l'ha dimostrata per 45 minuti. Bisogna arrivare a 90. Però è anche vero che non si può discutere la qualità della Lazio. Purtroppo questi giocatori non riescono a metterla per più partite. E questo è il vero problema. Vediamo se piano piano, assimilando lo schema di Sarri, questo sarà possibile nelle prossime partite. Grazie a tutti. Grazie a tutti.